Un gruppo fantastico, essere un leader di un gruppo così è meraviglioso, non è stato facile, siamo arrivati qua a vedere la gioia dei tifosi, sentire un po' con l'interista in questo momento. Un momento molto molto bello e sono molto orgoglioso di partecipare come allenatore di questa squadra. Sono allenatore dell'Inter da solo un anno, c'è un rapporto spettacolare con i tifosi che hanno capito che Mourinho può avere tanti difetti, però è uno che arriva, chi mette la maglia, chi mette lo scudo nel cuore, chi lavora per una società. Questo per me è il più importante. L'Italia mi piace tanto anche prima di lavorare e di vivere qua, se no parliamo con l'Italia. Io dicevo ai miei giocatori, qua ciò è che si può paragonare, per il modo di spersare non si può paragonare fra Italia e Inglaterra, perché Inglaterra ha troppe discipline in questi momenti, qua è una manifestazione molto più emozionale che mi è veramente piaciuta. Calcio di punizione che trova Ibrahimović, poi Stankovic, Curci e Stabal con il basso 1-0. Ibrahimović, palla di prima per Ballotelli che viaggia veloce, posizione regolare, super! Mario Ballotelli! Calaioche prende il tempo giusto, Pallo clamoroso! Manzini la passa per Ibrahimović, in area di rigore, Stata! Ibrahimović! Ciao! 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 Ciao!